Tutti i giorni lavoriamo con l'email e tutti i giorni scambiamo documenti, fatture, dati importanti tramite appunto la posta elettronica. Non ci rendiamo conto forse a quanto siamo esposti a rischio proprio ogni volta che scambiamo un'email con qualcuno oppure andiamo a cliccare un link su un'email. Sensibilizzarvi su questo argomento voglio mostrarvi un servizio che si chiama LibraESVA. Ve lo mostro, è questo qua, praticamente se andate nel sito ufficiale LibraESVA.com potete inviarvi nella vostra email delle email test per verificare per l'appunto la sicurezza della vostra casella di posta elettronica. Possiamo scegliere infatti diversi provider di posta elettronica, ne so Aruba, G Suite, Office 365, Tophost, Registra, ce ne stanno un milione. Perché andare a pagare più un servizio rispetto a un altro non solo per lo spazio, sicuramente, ma anche per i servizi anti-spam, anti-virus che offrono. LibraESVA vi invierà 16 email contenenti del materiale dannoso, tra virgolette, ma completamente innocuo, quindi andate tranquillissimi, per verificare per l'appunto a quanto siete esposti a rischio. Compilo i form e clicchiamo quindi su send email. Ok, ho compilato il form, ho cliccato su send email, se andiamo nel nostro account di posta elettronica vedremo che arriverà un messaggio con un link da confermare. Per dare l'autorizzazione a LibraESVA a inviarci queste email, quindi clicchiamo sul link e aspettiamo che ci arrivino queste email. Ora, io qui ho preso uno degli account Office 365, quindi per chi utilizza Office 365 sa già che è un account a pagamento, un sistema di posta elettronica ovviamente di tutto rispetto, ma che prevede dei costi. Per cui, già comunque sia l'efficacia di questi filtri anti-spam e anti-virus sono sicuramente più efficaci rispetto a soluzioni molto molto più economiche. Sto vedendo che mi sono arrivate doppie, quindi ho cliccato due volte sulla pagina, un attimo che li cancello. Ok, scusatemi, ho fatto un po' di pulizia perché mi erano arrivate doppie. Allora, praticamente come vediamo sono arrivate diverse email numerate, quindi partiamo dall'1 che non trovo in elenco, quindi o non è arrivata o è arrivata in posta indesierata. Infatti, eccola qua, se andiamo a vedere praticamente l'email è arrivata da boss chiocciola il mio dominio, quindi praticamente il messaggio è stato spostato in indesiderata perché per l'appunto proviene un indirizzo che in realtà non esiste innanzitutto nel mio dominio, ma poi in realtà non è stata inviata dal server del mio dominio. Quindi giustamente Office 365 è la messa in spam. Vi assicuro che ho fatto la prova con altri provider e la maggior parte di essi arrivava normalmente in posta in arrivo, quindi attenzione perché lo spoofing email è uno dei principali metodi per eseguire truffe. Poi l'email numero 2 contiene invece un link che se andate a vedere riporta al sito libraesva.com, ma se leggete vi dice che in realtà questo link porta a www.example.com, quindi in realtà è un altro indirizzo. Se andiamo sopra al link, infatti se vedete in basso a sinistra della pagina, vedete che mi porta a www.example.com, di fatti se lo clicco, vedete, mi porta a questo dominio. Quindi praticamente chiunque mi potrebbe truffare in modo abbastanza semplice, mettendo qui un dominio di mia conoscenza e indirizzare l'utente quindi su un sito senza esserne a conoscenza. Prendiamo poi il 3, il 3 contiene un attachment, quindi un allegato, un allegato .exe che giustamente Office 365 ha bloccato, quindi è essenziale che almeno le estensioni tipo i file eseguibili .exe vengano bloccati dal vostro provider email. Andiamo poi alla 4, la 4 non la troviamo, vediamo in post in di serata non è presente, ok, quindi è stato proprio bloccato. Andiamo a vedere che tipo di email era. Proviamo, clicchiamo testi o email, andiamo sull'elenco. Eccola qua. La 4 conteneva proprio un virus, quindi praticamente Office 365, il motore di scansione antivirus, ha funzionato bene e ha bloccato completamente l'email. Andiamo poi a prendere la 5, la 5 ci dice che se utilizziamo Microsoft Outlook for Windows dovremo vedere qui sotto a questo conditional comment un link, ok, cliccabile, che è riferito a un url malevolo. Fate la prova voi da casa e scrivetelo nei commenti se vi viene fuori direttamente Outlook da Windows. Se io non utilizzo Outlook, quindi non... ditemi se vi viene fuori, fate il test e ditemi se vi viene fuori e se vi viene fuori con quale operatore provider state leggendo la posta. E che versione magari Outlook utilizzate. Poi il numero 6, che è questo qua, contiene un link a un sito, un url, con una pagina HTML, quindi. E come vedete sotto rimanda HTTPS bit.ly e questo link è cliccabile, vedete se io clicco la pagina si apre. Quindi in realtà potete cliccare tranquillamente, state tranquilli, è tutto contenuto sicuro. Questo url non è stato filtrato da Office 365. Uguale, stesso discorso per il numero 7, sempre un url malevolo. E uguale anche l'8, quindi come vediamo non funziona poi bene se l'email nasconde, diciamo, collegamenti url esterni, non vengono riscritti né filtrati. Quindi arriva normalmente in posta in arrivo. La 9 contiene un documento HTML con un contenuto dannoso. Come vediamo l'allegato è raggiungibile, si può effettuare il download, quindi non è stato bloccato neanche questo. Andiamo a prendere il 10, idem, contiene un allegato e ti dice che il tuo software di sicurezza deve bloccarlo. Ok? Magari fatemi sapere nei commenti anche che tipo di antivirus utilizzate. Io qui ho installato note che ho bloccato volontariamente, proprio per farvi vedere il funzionamento solo dettato dal provider. Ok? Fatemi sapere nei commenti che prova avete fatto e con quale antivirus in caso. Andiamo a prendere poi l'11. L'11 non la troviamo, andiamo a vedere cos'era. Era un PDF attivo, ma trovo il 12. Il 12 cos'è? È un PDF che in realtà contiene testo, immagine e link, quindi anche link cliccabili. Immaginate l'utente standard, l'utente medio, riceve un PDF, apre, ci trova il link e lo clicca. Ovvio. Bene, quindi il 12 non è stato filtrato correttamente. Andiamo al 13 che è PDF con link malevolo. Eccolo qua. Anche qui stessa cosa, sicuramente. Ah, qui praticamente è un'immagine sfocata con un tasto cliccabile. 14, file compresso con Java dentro. Vediamo che purtroppo il nostro Java è qua, quindi non ha bloccato un bel niente. Il 15 non lo vedo in elenco, in desiderata non c'è, ok è stato bloccato. Word con contenuto esterno, quindi probabilmente lo stesso discorso di PDF, ma con un link cliccabile. Bravo, Office 365 l'ha bloccato. Il 16 è l'Excel con una macro, immagino sì, c'è una macro in un Excel. Quindi clicchiamo, ci sarà il solito abilità modifica. Scarichiamolo. Non ho il pacchetto Office, male male. Vediamo se da qui lo posso fare. Chiudi. Vabbè, fatemi sapere nei commenti. Se avete l'Office, provate a cliccare. Dovrebbe, leggiamo un po', dovrebbe... Ah, ok, praticamente questa è una macro che aprirà la calcolatrice. Quindi sicuramente si darà il tasto abilità modifica, no? Fatemi sapere se scaricandolo, cliccando su abilità modifica, vi si aprirà la calcolatrice o se è stato opportunatamente offuscato da Office 365 o il vostro provider che utilizzate. Lo potete fare con qualsiasi provider, quindi anzi, più feedback abbiamo, più riusciamo a capire un attimo come sono di base strutturati i nostri provider e-mail. Cosa possiamo fare per proteggerci a questo punto? Vabbè, opzione numero uno, utilizzare sicuramente il provider più sicuro, no? Uno di quelli che funzionano meglio. Opzione numero due è utilizzare un buon software antivirus o internet security, meglio ancora, in modo che queste e-mail, anche se comunque arrivano e non dovrebbero arrivare già di base a priori, però, ecco, sicuramente un buon software antivirus potrebbe difenderci meglio. Ma possiamo fare ancora di più utilizzando proprio per l'appunto un security gateway. Quindi, Libra.esva stessa fornisce un servizio di sicurezza, di gateway, sicurezza e-mail. Ovviamente è un servizio professionale, sicuramente anche costoso, però io non ho provato a richiedere una quotazione per quanto riguarda Libra.esva, ma voglio farvi vedere una soluzione più a portata di tutti, no? Potete registrarvi direttamente nella Sophos Central, per chi non lo conosceva, beh, Sophos, un marchio famosissimo che fa firewall, fa prodotti endpoint, fa un sacco di prodotti, tra cui anche un'email gateway. Quindi, se vi registrate nel sito Sophos, vi attivano una trial, quindi potete utilizzarlo e fare delle prove. Quindi, se andiamo qui, clicchiamo setup email gateway, possiamo andare a configurare il nostro dominio, ok? E andiamo a dire di, praticamente, come funziona. Voi registrate, andate qui a specificare il dominio della vostra posta elettronica. Andate a prendere il record MX, quindi dalla gestione DNS del vostro dominio, dovete spostare il record MX a Sophos, e Sophos poi lo reindirizzerà al vostro server di posta elettronica, che sia in locale o sia in cloud, poco importa, non ce l'importa. A quel punto le email arriveranno a Sophos, quindi direttamente sulla console l'email gateway farà la scansione di questi email, e poi le rimanderà al vostro server mail già scansionate e pulite, ok? Avete qui una dashboard, un log, eccetera, eccetera. Lo vado un attimo a configurare, quindi clicco setup email security, vado a specificare il dominio e lo vado a buttare sul mio server reale del provider. Ok, ho configurato praticamente tutto. Una volta che avete inserito il domain name, vi viene chiesto di creare un record di XT sui vostri DNS, e lo andate quindi a creare, serve giusto a Sophos per validare il dominio, quindi essere sicuro che è di vostra proprietà. Una volta fatto questo, vi chiede verso quale server MX, come vi dicevo prima, indirizzare poi le email, quindi mettete il vostro attuale record MX, e poi se andate avanti, vedete, vi dà il record, anzi il record MX, da caricare sul vostro pannello DNS, quindi le email arriveranno a Sophos e Sophos poi le ridigererà al vostro server mail attuale. Ho avviato l'invio delle email e come vedete mi sono già arrivate. Ho dimenticato di dirvi una cosa, in Sophos, per abilitare le caselle email al funzionamento con l'email gateway, voi dovete andare in mailboxes ed andare a specificare gli indirizzi email abilitati alla ricezione, altrimenti il filtro non funziona. Come vedete ha già rilevato qualcosa, quindi già si intuisce che il sistema ha scansionato le email malevole, alcune email malevole, ma vediamo nel dettaglio come funziona. Allora, troviamo stranamente l'email numero uno che arriva, questa volta è imposta in arrivo, prima la troviamo in posta indesiderata, che è lo spoofing, quindi l'indirizzo, quello boss, chioccio, la dominio. Quindi qui male con Sophos, nel senso che comunque è arrivata, mentre prima andava in indesiderata. Ma valutiamo un attimo i restanti. Allora, se andiamo nella 2, che era quel famoso link che vi ricordate sotto che selezionava example.com, Ora, se andiamo sopra il link, vedete che è stato riscritto l'url con aucentral1.protection.sophos.com, che significa che se noi andiamo qui a cliccare su questo url, mi mostra il dominio realmente example.com, ma lo mostra perché è stato già scansionato da Sophos e non hanno rilevato contenuto dannoso. Come faccio a dirvi questo? Perché se andiamo sul 5, il 5 è il solito famoso messaggio di Outlook, quindi chiedo a voi di verificarmi con Outlook se arriva o meno. Se andiamo sul 6 troviamo un altro link come prima. Come vi dicevo, vedete che abbiamo comunque sia eucentral1.protection.sophos.com In questo caso che l'url è veramente malevolo, se andiamo a cliccare comparirà un messaggio da parte di Sophos in cui ci dice che, attenzione, il sito può contenere contenuto malevolo e quindi vi invita a procedere con cautela. Possiamo comunque forzare l'apertura del sito, ma ecco, vedete, comunque l'utente viene messo in guardia riguardante il contenuto dell'email. Importantissimo. La stessa cosa succede con il 7. Poi andiamo avanti con l'8, stessa cosa link malevolo. Andiamo a cliccare e volendo possiamo procedere. Quindi, ottimo, ottimo, ottimo. Il 9 contiene il famoso allegato con il file HTML che come vediamo non ha solvito effetti. Quindi l'allegato lo possiamo comunque scaricare. Se lo andiamo a aprire, vedete, può contenere malware, ma è un messaggio di Google, non di Sophos. Quindi non ha riuscito a filtrare bene il messaggio. Andiamo nel 10, nel 10 troviamo l'altra pagina HTML. Anche qui stesso discorso non è stata filtrata e come vedete si apre e c'è anche il link. Quindi male, anche qua, non è stata filtrata. Il 13, stessa cosa, il file PDF con il link cliccabile che come vedete anche qui è ancora cliccabile. E il 16, che qui vabbè c'è doppia come prima, eccola qua, è il solito file Excel con il macro. Quindi indicativamente 4 email sono state bloccate, mentre una che prima non arrivava ora arriva. In generale l'url rewrite, quindi questa funzionalità di andare a riscrivere gli url nelle email, è un ottimo metodo proprio per contrastare per quanto possibile l'apertura di allegati da parte degli utenti. Il controllo allegati effettivamente non è, come abbiamo potuto vedere, molto molto attendibile, ma è anche vero che su questo tipo di minacce il nostro antivirus gioca un ruolo fondamentale. Quindi la protezione di Sophos, bene o male comunque sia, ha protetto un bel po' la vostra in arrivo, una bella mano ce la dà. Ovviamente questo è un servizio fornito da Sophos, ce ne saranno altri, ma era giusto per mostrarvi in questo video più che altro la vulnerabilità a cui siamo sottoposti tutti i giorni, in cui un utente, magari non particolarmente afferrato in informatica, quindi non riesce a capire se un url a prima vista, a primo impatto, se un url è benigno o meno, tramite questo sistema sicuramente ha una protezione aggiuntiva. Andiamo quindi a fare la stessa e l'antica cosa, ma con un indirizzo Gmail al volo, giusto per vedere quello che arriva o non arriva, così ci facciamo un'idea. Ricompilo un attimo i campi. Ok, ho fatto la stessa cosa, ma stavolta con l'account Gmail di questo canale, e come vedete, se andiamo a verificare, andiamo in spam, troviamo che quello spoofing è andato direttamente in spam, quindi ottimo. Vediamo che il 2 è presente e c'è l'indirizzo quello riscritto, ma che comunque, come vi dicevo prima, non è un contenuto essenzialmente dannoso, male che si può riscrivere le urle, però alla fine grossi danni non ne fa. Vediamo già che non trovo né il 3 né il 4 che trovavo in entrambi i casi, sia su Office 365 che in Office 365 con Sophos, è vero che comunque scriveva l'url, nel senso che faceva un controllo lui, ma qui addirittura neanche arriva. Il 4 non lo troviamo, il 5 è quello che riguarda Outlook, eccolo qua, quindi anche qui vi chiedo a voi di verificare con Outlook e Gmail se il problema si pone. il 6, andiamo a vedere se è in spam, si è in spam, è stato immesso in spam, quindi è come se non mi fosse arrivato l'8 uguale, il 7 invece lo troviamo qua, ed è quel famoso url, quindi questo non viene bloccato neanche da Google. Poi l'8 abbiamo detto è in spam, il 9 non lo trovo proprio, il 10 eccolo qua con l'allegato HTML, andiamo a vedere se me lo scarica normalmente, si me lo scarica, c'è l'url, quindi il 9 non è riuscito a bloccarlo, il 10 scusate, ma ricordiamoci che non c'è riuscito neanche Sophos. Stessa cosa per il PDF, andiamo a vedere se qui c'è l'url cliccabile, si c'è, quindi non è riuscito neanche qua. Andiamo a beccare l'altro PDF con la foto e l'url, anche qui non è riuscito a fare nulla praticamente, e il 16 che è il solito file Excel con la macro, che se andiamo a vedere, vabbè me lo fa scaricare, ma non ho Office, quindi magari fatemi la prova voi con il vostro account Gmail. Come vedete a grandi linee, già si capisce la differenza sostanziale nell'avere un indirizzo comunque sicuro come Gmail, quindi per un utilizzo ovviamente business che precluda, quindi l'avere un dominio personalizzato, chiocciolaizuki.com ad esempio, quindi G Suite, che ora si chiama Google Workspace, è sicuramente un plus in più, è sicuramente un servizio che è ok, pagate abbastanza rispetto ad altri provider, ma ecco qua, perché comunque sia la vostra email in questo modo è molto molto più profetta. Figuriamoci, poi abbinare il Sophos o un altro email gateway, abbinarlo a Gmail sarebbe proprio l'ideale, però ecco arriviamo già a dei costi. Diciamo già che G Suite o Google Workspace, come vi piace più chiamarlo, attualmente è sicuramente uno dei servizi più indicati e più che mi sento proprio di consigliarvi, più ovviamente anche di Office 365, perché come vedete è vulnerabile sotto questo punto di vista. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina, metti un mi piace. Ci vediamo al prossimo video.